La prima cosa vi voglio dire che lo staking in progetto 1090 si tratta di tenere la criptovaluta nel portafoglio per ricevere una ricompensa. Oggi stiamo parlando della promozione che è valida dal periodo 9 giugno 2021 da ore 15 fino a 9 luglio fino a ore 15. Acquistando moduli per 30, 30 e 3 mila dollari si applicano le seguenti condizioni. Soprattutto per il modulo di 30 dollari il limite dello staking sarà di 300 dollari, appare a 50% all'anno. Per il modulo di 300 dollari potrete mettere per lo staking 3.000 dollari a 60% all'anno. Per il modulo di 3.000 dollari potrete mettere 30.000 dollari a 70% all'anno. Quindi voi all'anno riceverete da 50 a 70% di guadagno pulito. Calcolo dello staking per un modulo al costo di 30 euro. Andiamo ora di calcolare per ogni modulo passo dopo passo. Per esempio, per il modulo di 30 dollari lo staking sarà di 300 dollari. Quindi voi dovrete comprare il modulo a 30 dollari che vi apre una possibilità di versare 300 dollari per lo staking. Quindi in un anno verranno accreditati 150 dollari in raido. Al tasso del sito sarebbero... Al tasso del sito non mi ricordo il tasso quanto era. Però vabbè comunque ogni mese vengono accreditati 12,50 euro in raido. Al tasso del sito quindi alla fine dell'anno avrete 150 dollari in utili. Calcoliamo lo staking per 300 dollari. Qui diciamo per il modulo da 300 dollari avrete lo staking per 3.000 dollari. Acquistando un modulo di 300 dollari voi potete mettere sullo staking 3.000 dollari a 70% annuali. Quindi sono 1.800 dollari di guadagno pulito in un anno al 150 euro al mese. Andiamo avanti. Ora vediamo il modulo da 3.000 dollari cosa vi dà. Vi dà il 60% annuali. Ragazzi qua avrete 2.100... Sarebbe 30.000 dollari potete mettere sullo staking. E avrete 21.000 dollari di guadagno pulito. Quindi in un anno verranno accreditati 21.000 dollari. Sempre in raido. Ora tutti i progetti della comunità VECO funzionano con token raido. Quindi vi vengono accreditati sempre in raido. Quello che vi potrete poi cambiare sullo scambio CoinGalaxy. Per la promozione. Licenza... Allora, dato che tutto lo staking, se voi passate da una licenza all'altra, vengono accumulati. Per esempio, licenza da 30 dollari più 300 dollari, il limite di staking sarà 3.300 dollari e al 60% all'anno. Quindi avrete 1.980 dollari all'anno di utile. Utile netto sarà 1.980, meno 330 dollari il costo della licenza. E quindi l'utile sarà 1.650. E sono, va bene, 500% di utile calcolando il... Allora, quello che voi avete messo sullo staking e quello che avete guadagnato. Andiamo avanti. Poi abbiamo anche il parking. Acquistando di raido con il VEC, per il VEC, per ogni 1.000 VEC vengono accreditati 5 dollari in token raido, al tasso di cambio del sito. Allora, l'ordine, quando avete fatto l'ordine in una coppia VEC raido, non è possibile anulare. Per esempio, 1.000 VEC, l'importo che avete messo, vi dà 5 dollari al giorno. Sempre in token raido, quello che va dopo cambiato sullo scambio. Quindi voi prenderete 150 dollari al mese, in 5 dollari per 30 giorni, fanno 150 dollari, che questo fa reddito mensile nel progetto 1090, facendo solo il parking. Rifornimento e ritiro dei fondi. Allora, il rifornimento viene fatto sempre nel token raido. Il token raido è un token che si utilizza ora in tutti i progetti della nostra compagnia di VEC ed è utilizzato il token raido che è fatto sulla blockchain Tron. Acquistando il token raido per partecipare al progetto 1090 è possibile solo sullo scambio interno del sito. Sarebbe nel nostro, nel sito del 1090, perché ora non è possibile fare il rifornimento dall'esterno. Quindi voi il token raido dovrete comprare sempre dentro il sito 1090, non sul scambio CoinGalaxy. Il rifornimento, come si dice, il rifornimento del token raido non è disponibile. Il ritiro del token raido è disponibile su uno scambio esterno e in altri progetti. Quindi voi dall'esterno comprate il token VEC, entrate dentro il progetto, cambiate sul token raido e potrete cominciare a soffrire tutti i beni del progetto 1090. Dopo quando volete ritirare il vostro guadagno, voi potrete tranquillamente portare fuori sullo scambio esterno e cambiare su quella criptovaluta o la valuta quella che sceglierete voi. La vendita dei fondi viene effettuata secondo il limite del modulo acquistato, esattamente. Questa era una breve presentazione. Ragazzi, ora se volete, cioè potete fare delle domande, il chat sarà attivato ora. Lien, attivatevi, ora possiamo ascoltare i domande e le risposte. Poi vi volevo dire che oggi abbiamo un ospite con noi, un top leader della compagnia VECO, Andrei Wolf, che insieme a me potrà dare delle risposte alle tutte le domande. Lien, можете attivare il chat e noi stiamo insieme a tutte le risposte con Andrei Wolf. Lien, no. quasi se non avete delle domande io chiudo allora la sessione grazie a tutti grazie 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 тут я просто по-таленски вообще ничего не понимаю тем не менее я поблагодарил андрея за участие я спроси зашла поддержать спасибо елена я зашла и поддержать отлично елена жарова отлично а вот уже уже чай разблокирован можете под этой fare delle domande ragazzi se avete delle domande лена баггерова привет я делаю domande per favore под этой поры после domande керси амуллеты di risponder ребята русскоговорящий тоже можете задать вопросы насчет проекта мы будем рады вам всем ответить да конечно ребята задавайте вопросы ok va bene va bene va bene se nessuno ha delle domande vi ringrazio a tutti quindi la presentazione è stata chiara e tutti hanno capito tutto grazie a tutti arrivederci arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti